Amici da Misti ben ritrovati, oggi vediamo insieme un match disputato nel 2013 al 77esimo campionato italiano assoluto a Lecce. Con il bianco il maestro scaggiante, con il nero il maestro Sardu. Allora l'apertura fu la seguente, 22-19, 10-13, 23-20. Allora il nero gioca 11-14, x-x, il bianco fa 28-23, 7-11. Qui c'è tiro a 2 senza guadagno di pezzo e fin qua è una partita che non dice nulla. Poi 23-19, 12-15, x-x, 32-28, 1-5, 28-23 e la partita prosegue con gioco equilibrato fino a questa mossa che il computer la giudica comunque pari, però si poteva anche giocare diversamente. Si poteva giocare 10-14, per esempio. Però il nero sceglie questa condotta e il bianco risponde 23-20, 10-14 e questa è una mossa buona, 27-22. Si può anche giocare 25-21, 2-6, 29-25 eccetera. Comunque il bianco gioca 27-22, ottima mossa e qui però il nero si va a complicare perché allora 2-5, 30-26 e 5-10. Qui il nero ha partita persa, partita da abbandono però prosegue. Allora 25-21, 13-17, 22-18 e qui vedete che il nero allora non può fare 10-13 perché il bianco si lascia a catturare la 18 e ne cattura 2. La mossa che fa il nero è questa, anche altre alternative. La 3-6, non so, possiamo vedere cosa succede. La 7-12 ovviamente poi il bianco si infila con 20-16 dopo il cambio e la 15-19 non si può nemmeno fare perché appunto ci sarebbe 20-15 con il tiro a 2 e allora qui il nero può fare solo 14-19, il bianco risponde con un cambio da ambo le parti e così il bianco si trova in una posizione vinta. Il nero va avanti quindi 19-23, il bianco porta in gioco la dama, 26-22, 9-13. Il bianco attacca, il nero cerca di spingere. Qui vedete che c'è ben poco da fare, il bianco attacca un altro pezzo e tra l'altro vedete che costringe il nero a chiudersi perché se va da mare in 30 comunque ci sarebbe un'altra presa da parte del bianco con 29-26. La partita prosegue ulteriormente. Il nero cerca disperatamente di damare ma qui vedete che il bianco praticamente ha un pezzo in più, porta a dama tutte e tre le pedine e quindi poi finale 4 contro 3 vinto. Qui il nero non abbandona, la partita va ancora avanti. queste sono le mosse che sono seguite. Chiaramente in un finale con una dama in meno, tre dame contro quattro dame, il partito in svantaggio deve abbandonare. Normalmente è chiaro che sono di quei finali in cui il partito in svantaggio può offrire una certa resistenza però a questi livelli e qui il nero abbandona a questi livelli è anche inutile proseguire che servirebbe veramente un miracolo per arrivare al limite delle 40 mosse senza che ci sia un cambio forzato. tornando a questa posizione il nero che alternative avrebbe? L'unica 3-6 però con la 3-6 poi vedete che intanto il valore è meno 738 per il bianco quindi partita stravinta per il bianco e qui il nero cosa può fare? Qui il programma sacrifica ma vedete che anche in questo caso cosa potrebbe fare? Allora così ci sarebbe il tiro a 3. Disastroso. E questa che sembra la mossa migliore porterebbe comunque al tiro precedente e qui poi il bianco potrebbe fare piazza pulita dei pezzi del nero. Tra l'altro c'è la 19 a tiro quindi quindi qui il programma sacrifica perché ha già visto che quel pezzo è perso. ma tornando ancora indietro vediamo un attimo allora qui facendo 4-7 dopo la 23-20 10-14 27-22 allora qui è ancora pareggiabile vedete valore 1 allora qui il nero può fare 14-18 attacco ma penso potrebbe fare anche 13-18 e questa è una posizione che io non so poi perché il nero non ha giocato queste queste mosse perché forse non si accontentava del pareggio però vedete che tutto sommato è una posizione di pari e qui invece un giovanissimo scaggiante va a vincere va a vincere contro un forte maestro e la partita è finita così con una leggerezza da parte del nero a questo punto qui vedete che ha giocato ha giocato 2-5 30-26 e 5-10 cioè anche in questa posizione no ancora qua è pareggiabile quindi l'errore è stato proprio 5-10 cioè qua si può fare 13-18 si può fare 14-18 ma 5-10 è stato l'errore che ha fatto perdere il nero bene io spero che questo match vi sia piaciuto ci vediamo al prossimo video